Oggi è il 5 luglio 2018 e stiamo aspettando il punteggio dell'atleta che ha appena terminato la sua prova. Siamo alla quattordicesima edizione del trofeo nazionale Formula Wisp. E sta entrando in pista la prossima atleta che si esibirà in questo momento. Oggi la gara prevede una novantina di atlete divise in tre gruppi, il gruppo rosso, il gruppo verde e il gruppo giallo. Nello specifico queste bimbe dodicenni sono del gruppo giallo. E come sempre sono tanti i genitori, gli accompagnatori che accompagnano queste piccole atlete che si trasformano in fotografi. Vediamo questa signora che sta facendo la videomaker adesso, ma fino a poco fa era una parrucchiera, è stata una truccatrice, una consulente. Aiuta la bimba a vivere serenamente il pregare, anche perché comunque sono bimbe. Fino a poco fa giocavano, erano fuori che si rincorrevano con le amiche. Mentre invece adesso si sono trasformate in piccole professioniste e comunque in grande atlete. Anche per oggi io vi saluto guardando questa graziatissima cucciola che sta facendo la sua esibizione. Per tante di queste questo è il primo appuntamento nazionale della loro carriera di atlete. Arrivederci, buongiorno a tutti.